Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Simona Branchetti scoppia in lacrime in diretta a pomeriggio quinto. Non è riuscita a trattenere le lacrime la conduttrice della sezione news nel noto programma pomeridiano dell'ammiraglia Mediaset. La giornalista è crollata durante la diretta di ieri, venerdì 2 agosto, mentre annunciava al pubblico una notizia che l'ha coinvolta emotivamente dal momento che riguardava una persona a lei molto cara. Branchetti ha infatti ricordato la collega, Carlotta Dessy, venuta a mancare il 6 di febbraio del 2024. La notizia riportata dalla conduttrice di pomeriggio 5 News faceva riferimento alla decisione del paese di origine della giornalista Dessy di dedicarle una piazza. Pronunciando queste parole, Simona Branchetti è apparsa visibilmente commossa e in difficoltà a proseguire per l'emozione fino poi al crollo.